Felice di ritrovarvi amici delle auto della settimana, un mese veramente speciale, siamo tornati dalle ferie e iniziamo a pensare alla nostra nuova automobile e qui si risparmia per davvero perché da sempre Queen Car uguale paradiso del risparmio. Pianezza Torino via Susa 52, attenzione perché questo è un mese speciale, per questo mese parliamo di pronta consegna vera, scegliete una delle automobili in pronta consegna a chilometri zero nuova d'occasione e in tre giorni Queen Car vi consegna la nuova automobile. Fabrizio? Sì appunto abbiamo 400 autovetture in pronta consegna, in tre giorni consegniamo la vostra auto, scegliete la vostra motorizzazione, benzina, diesel, GPL, ibrida, full electric, tutte in pronta consegna, chilometro zero, nuove vetture aziendali, pensate con risparmi fino al 51%. E attenzione perché sempre per questo mese continuano anche gli eco incentivi e poi acquistare un'auto da Queen Car è veramente semplice perché acquisti oggi, ritiri fra tre giorni e inizi a pagare quando? Addirittura il prossimo anno ma la cosa importante è avere la rata che desiderate. Cosa vuol dire? Volete un'autovettura utilitaria? 99 euro al mese, volete un SUV? Addirittura 149 euro al mese. Possiamo sempre inserire il furto, incendio, la manutenzione ma la cosa anche importante con la rottamazione Queen Car arriva a farvi risparmiare con incentivi statali fino a 10.000 euro. Insomma in questo mese Queen Car vi invita a ragionare quale sborso mensile... Vai! Insomma Queen Car per questo mese vi invita a ragionare su quale sborso mensile avete piacere di destinare alla vostra nuova automobile perché da Queen Car è possibile. Buttate via il telecomando e andiamo con le grandi opportunità d'acquisto. Targate Queen Car. Partiamo subito dal nostro marchio Mitsubishi con la Mitsubishi Spestar 1.2 benzina disponibile anche ai GPL. Come dicevamo subito all'inizio piccole rate mensile da 99 euro al mese. Possiamo sempre inserire manutenzione e furti, incendio nella vostra rata. Passiamo alla Mitsubishi Eclipse 1.5 benzina 163 cavalli. Pensate con l'incentivo di rottamazione grazie ai contributi che vi da anche Queen Car arriviamo a risparmiare fino a 8.000 euro. Cosa vuol dire? Rate mensili da 179 euro al mese. Sempre in casa Mitsubishi non può mancare l'Hotlander. Cercate una vettura GPL cambio automatico eccola qua. Grazie al risparmio della rottamazione che arriva fino a 2.000 euro portiamo via questa autovettura con una piccola rata mensile da 249 euro al mese. Passiamo alla Mitsubishi L200 doppia cabina singola a chilometro zero. Cosa vuol dire? Portare questa vettura via a 18.900 euro sempre più IVA e anche le rate pensate da 249 euro al mese. Passiamo al nostro marchio Sayong dove siamo concessionari sia per la vendita e l'assistenza. La bellissima corando che vediamo qua 1.6 turbodiesel cambio automatico 1.5 benzina GPL. Pensate grazie alla rottamazione e all'offerta qui in car risparmiamo fino a 10.000 euro. Cosa vuol dire? Portare via questa autovettura con una rata mensile da 189 euro al mese. Continua il successo della nuova Tivoli 1.2 benzina 1.5 benzina e 1.6 turbodiesel. Disponibile anche adesso GPL. Pensate con 5 anni di garanzia. Sempre super rottamazione. Sempre risparmio con delle piccole rate a partire da 149 euro al mese. Possiamo sempre inserire furti, incendio, la casco e anche la manutenzione inclusa nella vostra rata. Concessionario ufficiale in Mahindra qui a Pianezza in via Susa 52 sia per la vendita e l'assistenza. Partiamo subito dalla Cuv 100 1.2 benzina. Benzina GPL. Pensate in pronta consegna con una rata mensile da 99 euro al mese. Venitela a vedere e provare su strada. Non solo vetture nuove a chilometro zero, ma anche vetture aziendali. Pensate, venite qui alla Queen Car, scegliete l'autovettura con un cannone mensile, sempre con assicurazione e manutenzione. Pensate un Tucson con pochissimi chilometri, 179 euro al mese. Cercate una Nissan Qascai turbodiesel full opsla, 199 euro al mese. Abbiamo tantissime Jeep, Reneghe, Compass, turbodiesel, benzina con pochissimi chilometri. Anche qui la rata 189 euro al mese. Sempre anche in casa Audi, Mercedes. Pensate, questa bellissima Audi A3 la portate via con una rata mensile da 169 euro al mese. Super offerta, quella qui in car non può mancare la Mini 1.5 benzina. Pensate la rata 129 euro al mese. Volete una Fiat Panda in pronta consegna? Ecco, vetture aziendali 2020, 1.2 Lange con soli 89 euro al mese. Guardate, la volete nera, blu, grigio, scuro, tutte in pronta consegna. A tre giorni consegniamo la vostra auto e abbiamo anche le Fiat Panda Easy. Attenzione al prezzo. Esessione bollo, 99 euro, nuove a chilometro zero. E sempre con 99 euro al mese. Guardate che bellissime. Lancia Ypsilon, vettura nuova. Pensate, con l'incentivo di rottamazione, 9.950 euro. La volete? Benzina, ibrida, GPL, tutte in pronta consegna a partire da 99 euro al mese. E con 149 euro al mese, guardate che bellissime. Fiat 500L, 1.4 benzina, 1.3 multijet, 149 euro al mese. Con l'incentivo di rottamazione, tutte autovetture in pronta consegna. Tre giorni consegniamo la vostra 500L. 7.000 euro di super rottamazione. Pensate, le vostre Fiat Tipo, ad esempio, quattro porte, cinque porte, a un prezzaccio. 11.900 euro. Parliamo di autovettura nuova con la super rottamazione. La versione nuova 1000 Turbo, 100 cavalli, 11.900 euro. Cannone a partire da 120 euro al mese. Tutta la gamma 500 in pronta consegna, la versione 1000 My Hybrid, esenzione bollo, attenzione al prezzo, 110 euro al mese. E abbiamo anche in pronta consegna, in tre giorni consegniamo la vostra 500, benzina e GPL, circolate sempre, esenzione bollo, 1.2, attenzione al prezzo, 129 euro al mese. Venite qui, in tre giorni consegniamo la vostra 500. 350 km di autonomia, parliamo della nuova 500 elettrica. Guardate quante sono in pronta consegna. In tre giorni consegniamo la vostra 500 elettrica con 199 euro al mese. Pensate, zero anticipo, versione full option, 199 euro al mese con rottamazione. Solo la Quicar, venite a provarla per un giorno intero. Alla Quicar non trovate solo autovetture nuove, ma anche autovetture aziendali con meno di 10.000 km. Ad esempio, questa bellissima 500 cabrio cambio automatico, 2.020. Attenzione al prezzo, 139 euro al mese. E con 4.000 km prendiamo questa bellissima Abarth Scorpione Oro, edizione limitata, con 250 euro al mese. Tutta la gamma Jeep Renegade in pronta consegna, 1.000 turbo, 120 cavalli, 1.600 multijet, allestimento Night Eagle Limited. Guardate quante ce ne sono in pronta consegna, con canoni a partire da 189 euro al mese, versione full option, solo la Quicar, Jeep Renegade, pronta consegna, 189 euro al mese. Con 220 euro al mese portate a casa questa bellissima BMW 225, plug-in, esenzione, bollo, attenzione, prezzo, 220 euro al mese. E con 199 euro al mese portiamo a casa questa bellissima Volkswagen Tiguan 1.6 TDI, allestimento business full option, 199 euro al mese. E con 350 euro al mese portate a casa questo bellissimo Mercedes GLC 2002 turbo diesel, cambio automatico, allestimento full option, con meno di 40.000 chilometri, a soli 350 euro al mese. E con 250 euro al mese portate a casa questa bellissima Citroen C1 o, introvabile, pensate, in prota consegna, Peugeot 108 full option, sempre 99 euro al mese. Con 99 euro al mese potete scegliere questa Citroen full option in prota consegna in tre giorni. E passiamo con questa bellissima Peugeot 108, sempre vettura aziendale, con 99 euro al mese. Qui alla Queen Car non trovate solo autovetture, ma anche veicoli commerciali. Guardate quanti veicoli commerciali in prota consegna da Fiat Doblo, Fiat Fiorino, pensate, con soli 120 euro più IVA. Oppure abbiamo dei bellissimi Citroen jumper, Opel Vivaro con soli 250 euro al mese. Da Queen Car l'auto che vuoi tu, la rata che vuoi tu, a partire da soltanto 99 euro al mese. Da Queen Car è reale. È impossibile non trovare l'automobile che state cercando, bastano pochi minuti, basta fare un salto qui all'interno della sede di pianezza via Susa 52 Queen Car per trovare la vostra nuova automobile. Oggi è ancora più semplice acquistarla, ma soprattutto averla in pronta consegna. Un mese veramente speciale, un mese di grandi opportunità d'acquisto, ma soprattutto un mese dove continuano gli eco-incentivi, Fabrizio. Sì, abbiamo gli incentivi di rotamazzone statale fino a 12.000 euro per il tuo usato che vale zero, ma qui alla Queen Car vi aspettano 400 autovetture in pronta consegna. Cosa vuol dire? In tre giorni consegniamo la vostra auto. Evitate di aspettare 120, 150 giorni per un'auto. Venite qua, scegliete benzina, diesel, GPL, ibride, full electric, tutte in pronta consegna. In tre giorni consegniamo la vostra auto. Cari amici che siete a casa, voi dovete solo pensare a quale vuole essere il vostro esborso mensile per possedere la vostra auto nuova. Al resto ci pensa Queen Car. Sì, certamente, venite qui alla Queen Car, scegliete fra tutte le nostre autovetture piccole rate mensili, cosa vuol dire? 99 euro al mese, portate via la vostra vettura con già l'assicurazione, furti, incendio, possiamo anche inserire la casco, tutta la manutenzione questo mese su tutte le vetture in pronta consegna, anche le gomme da neve. E allora cosa aspettate? Massimiliano e Fabrizio e tutto lo staff Queen Car vi aspettano per la vostra nuova automobile in pronta consegna, al miglior prezzo, grazie anche agli concettivi statali. Tutto questo dove? Pianezza Torino, via Susa 52, Queen Car uguale paradiso del risparmio.